I vaccini ieri sono arrivati in tutti e undici gli hub regionali. Dall'i hub le farmacie hanno provveduto a spacchettare e a conservare i vaccini che non si sono conservati e a preparare invece tutti i pacchetti che sono stati immediatamente distribuiti ai centri periferici. Già stamattina abbiamo attivato 26 punti di vaccinazione in tutta la regione. Quindi dalla provincia di Foggia alla provincia di Lecce in tutta la regione si partirà contemporaneamente questa mattina da un calcolo così preliminare probabilmente saranno più di 1500 le dosi che si riuscirà a somministrare nella giornata di oggi. È un numero importante considerando che è soltanto la partenza però nei prossimi giorni dobbiamo accelerare questa somministrazione perché l'obiettivo è quello entro una settimana di concludere la gran parte dei vaccini che sono stati spediti in questa prima tranche che sono circa 30.000. Oggi si comincia con operatori sanitari e residenti nelle RSA. Sia gli operatori sanitari che gli anziani residenti nelle strutture residenziali faranno parte di questo primo round di vaccinazione. Sono coloro che stanno in prima linea e quelli che sono più fragili e più suscettibili di malattia grave. Nell'ambito degli operatori sanitari la cabina di regia regionale ha anche stabilito delle priorità. Sono quattro gruppi di priorità ovviamente il gruppo 1 quello che sarà vaccinato proprio nei primissimi giorni saranno operatori del 118, i colleghi che hanno lavorato nelle terapie intensive, negli ospedali covid e poi via via tutti gli altri.